Allora, continuiamo la nostra giornata di presentazioni con Marco Mazzaglia che ci parlerà di... Retro Game Remastered, quindi come la storia di videogiochi è entrata a gamba tesa nel mercato di oggi e cosa puoi insegnare a chi vuole, da una parte avvicinarsi al mondo dei videogiochi dal punto di vista industriale, quindi come lavoro e invece anche ai fruitori per dare nuovi indizi o nuove strade da percorrere per magari scoprire titoli interessanti. Ottimo, allora in bocca al lupo. Grazie, allora buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza sperimentale perché abbiamo provato a farla un po' di volte a diversi tipi di pubblico, mai a un pubblico di persone che saranno magari appassionate ma magari non hanno intenzione, non hanno mai pensato che questo, il mondo dei videogiochi che attualmente fattura 99 miliardi di dollari, quindi molto più del cinema a livello mondiale, di cui un solo miliardo qui in Italia, sta diventando un fenomeno decisamente da considerare come fenomeno che smuove l'economia, che porta insomma una serie anche di finanziatori a interessarsi a questa cosa. Chi sono? Sono Marco Mazzaglia, lavoro in Sinesthesia e Mixed Bag, che sono due aziende che sviluppano da una parte app e videogiochi per mobile, dall'altra videogiochi per console. Faccio il mio mestiere fare l'IT manager dal punto di vista tecnologico, quindi esperto di architettura e di sistemi. Dall'altra parte nel mio passato una delle aziende per cui ho lavorato mi diede questo nome di videogame evangelist proprio perché curo il fatto di spiegare il mondo dei videogiochi alle realtà che magari possono essere interessate, dalla realtà aziendale, dalla multinazionale di 35.000 dipendenti che vuole capire come funziona il videogioco all'interno dei processi aziendali a studenti che vogliono avvicinarsi al mondo dei videogiochi. Questi sono un po' di giochi che ho fatto, dalle quattro ruote, due ruote e due giochi di racing in Milestone, a un gioco di calcio che si chiama Atrick, la versione mobile, e poi uno shooter che si chiama Futuridium. Se provo a mettermi di qua, così, abbiamo, telecomando fa un po' fatica, mi vedi ancora? Ok, perfetto. Questo è il nostro ultimo figlio da parte di Mixelbag, è un gioco che si chiama Forma 8, è uscito per sé piattaforme, PC, Mac, tramite la piattaforma digital e Steam, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One e Nintendo Wii U. Qui possiamo vedere il trailer, che non si sente, forse... Ah no, si sente. Ah no, si sente. Ah no, si sente. Perché un gioco come Forma 8 è interessante? Perché incarna il concetto non tanto di remastered, ma quanto di retrogame. come vedete dagli screenshot, quello che si chiama l'elevator pitch, cioè quelle righe che descrivono il gioco Forma 8, che noi abbiamo presentato a chi era interessato alla pubblicazione, perché poi questo gioco uscirà fra qualche mese in edizione fisica, quindi lo potrete comprare su internet in scatolato. abbiamo scritto quando Another World, che è il gioco che avete visto in copertina, incontra Metroid, perché lo stile di gioco, il fatto di poter vagare e girare per tutto lo schermo, per questo mondo aperto, è ispirato appunto al gioco Metroid, con, e sempre l'elevator pitch dice, con dei super satisfying anti-gravity controls, quindi il fatto che questa sonda che gira in questo pianeta, che deve scoprire rispetto a qualsiasi altra cosa, a un sistema di controllo anti-gravità, che oggettivamente è quello che mi ha fatto desiderare di andare a lavorare per completare questo gioco. Quando vidi la versione demo del gioco, riusci a capire che era qualcosa veramente di affascinante interessante e quindi questo è un po' l'idea, riuscire ad andare nel passato, vedere quello che poteva essere interessante nel passato e poi riuscire a ripensarlo in chiave moderna ai giorni nostri e quindi poterlo adattare a tutte le piattaforme e soprattutto alla capacità espressiva in termini di input e in termini computazionali che si può esprimere adesso. Faccio parte dell'associazione T-Union, che è un'associazione che promuove l'industria del videogioco sia in termini di opportunità di lavoro, sia in termini di spiegare che il videogioco serve per altre cose, serve per la formazione, serve per la promozione di prodotti, insomma ci sono tantissimi utilizzi che il videogioco può fare, quindi facciamo le Global Game Jam, quindi dei tre giorni in cui si cerca di, insieme ad altre persone, tra studenti e professionisti, di pensare a un prototipo di un videogioco, è un evento mondiale che ha coinvolto circa 70.000 persone in tutto il globo e che naturalmente con questa cifra di persone coinvolte sta incuriosendo molto Facebook, Intel che sono diventati i main sponsor e all'interno di questa associazione ci sono delle aziende che qui vedete che ognuna che tratta il videogioco in modi diversi. Andiamo a però, poi abbiamo anche una scuola che si chiama Event Horizon che è qui a Torino ma anche in altre sei città d'Italia per cui se uno vuole imparare a sviluppare videogiochi puoi iscriversi ai master che questa scuola offre. Definizione di giochi, allora la definizione di retro game è, almeno a leggere, ci sono state tante definizioni, quella che può aiutare è quando si precisa esattamente anche un periodo di tempo. Un retro game diventa retro game quando appartiene a due generazioni, almeno due generazioni precedenti, quindi la nuova generazione che è entrata a far parte di questa terminologia è quella delle console Sony PlayStation 2 e Microsoft Xbox. Ci sembra strano perché si parla di dieci anni fa, anzi si parla dell'anno 2000 quando uscì PlayStation 2, questo è la differenza di tempo. In verità retro game, lo so che qualcuno, anch'io sono rimasto perplesso però vabbè, perché con PlayStation 2 si è cominciato a introdurre il gioco online e quindi ci sono già una serie di cose che potrebbero andare fuori dai retro game, però questo è. Quindi abbiamo le tre console significative, sono PlayStation 2, Microsoft Xbox e il Nintendo Gamecube. La remastered di un prodotto che cos'è? E' la riedizione di un gioco che può essere vecchio, quindi appartenere alla categoria del retro game o semplicemente appartenere a una generazione precedente. Abbiamo dei casi appunto particolari, soprattutto adesso, il caso di The Last of Us che è un titolo che ha spremuto decisamente la PlayStation 3 e che è uscito in versione remastered subito dopo, appena uscita la PlayStation 4. La compilation Ico e Shadow of the Colossus di Fumito Eda che era uscita per PlayStation 2, anche lì spremendo al 1000% la console e le varie riedizioni di Tomb Raider che hanno cercato di... Un'altra riedizione interessante è la Journey Collector's Edition di Dead Game Company in cui questi tre giochi presenti già per PlayStation 3 hanno ritrovato nuova vita sulla PlayStation 4. Solitamente, adesso qui è un po' scuro, in una remastered io lascio il gioco così com'è, affino certi particolari ma soprattutto faccio un restyling grafico. Il gioco non cambia più di tanto, magari vengono inseriti dei contenuti che erano stati cancellati, immaginiamo le n versioni che ci sono state di un gioco che si chiama Dragon's Lair del 1983, in cui ad esempio nelle successive riedizioni hanno aggiunto tutte le scene che erano state cancellate come contenuto aggiuntivo inserito nella versione finale. Solitamente come qui, e questa è una scena di The Last of Us, la differenza tra PlayStation 3 e PlayStation 4 è certamente una differenza grafica e di anche aggiornamento dello schermo perché il gioco funziona a 60 frame fissi su PlayStation 4 mentre su PlayStation 3 era bloccato ai 30. Quali sono i motivi per cui le aziende di adesso hanno deciso di percorrere il discorso di rimasterizzare un contenuto? Certamente i AAA sono molto rischiosi come sforzo complessivo, cioè non sempre va bene come su questo gioco. Questo gioco è GTA V che rappresenta il successo, il fiorello chiello commerciale, è una delle pietre miliari dei videogiochi per tanti motivi, dal punto di vista economico è un gioco che è costato 265 milioni di dollari come sviluppo di cui metà è stato lo sviluppo vero e proprio e l'altra metà in marketing in una proporzione di 125-135 milioni di dollari. Dall'altra parte mille persone coinvolte nello sviluppo, quindi pensate mille persone che devono lavorare contemporaneamente allo stesso progetto, però ha avuto un successo planetario perché è stato il primo gioco ed è il primo prodotto multimediale, includendo anche i film, a guadagnare un miliardo nei primi tre giorni di commercializzazione. Un miliardo avatar dal punto di vista cinematografico impiegò 17 giorni ad arrivare a una cifra del genere. E la cosa interessante è che i media hanno parlato del successo di avatar tantissimo, quasi a spaccarci la testa, rispetto a questa cosa qui pochi la conoscono. GTA V è passato sui modi di comunicazione come il gioco dove fai il ladro, il criminale, vai a fare il cattivo, puoi fare di tutto, violenza, le tragedie sono causate tutte da lui. No, dal punto di vista commerciale è stato dichiarare che il mondo dei videogiochi è decisamente un mondo, dal punto di vista economico, più profittevole di quello del cinema. Questo perché? Perché dicevo che è un esempio particolare? Perché invece nelle produzioni più classiche, quello che sta succedendo nel mondo dei videogiochi, ma anche un po' come nei film, è un po' questo, che non tutti i progetti di TIPRA hanno sempre una declinazione molto interessante, che è un po' riassunto da quello che c'è in questa canzone di Gianni Morandi. Cioè, nel momento in cui si spiega il mondo dei videogiochi e si spiega questo esempio, più o tutti pensano che il mondo dei videogiochi sia, io faccio un videogioco e divento ricco. Così non è né per noi, come dire, che in Italia sviluppiamo videogiochi, né per i grandi, come dire, né per le grandi aziende. Questo gioco, Titanfall 2, che è un gioco stupendo, è un gioco veramente fatto bene, una bellissima storia, bellissime modalità multiplayer, fatto dal team che faceva Call of Duty ai tempi, le due edizioni più di successo, Modern Warfare 2 e Modern Warfare 3, vabbè che c'è anche stata Black Ops 2 che non è andata male, hanno fatto uscire questo gioco, il gioco di una qualità pazzesca, ma non ha funzionato dal punto di vista commerciale. È uscito in mezzo a Battlefield e all'altro Call of Duty, e quindi ha venduto molto poco, nonostante la qualità sia eccessa. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho prodotto dei giochi belli per le piattaforme passate, e ho quello che si chiamano le proprietà intellettuali, cioè le idee che hanno funzionato, perché non farle riuscire e fare poco lavoro e dare il contentino e avere sicuramente un incasso sicuro? E quello che è capitato e che sta capitando adesso, perché io devo rischiare ad avere qualcosa di poco riconoscibile e spendere milioni. Qui non si tratta di spendere mila euro mettendo insieme un team di dieci persone, si tratta di fare dei progetti sempre molto grossi. Allora, ecco perché ci sono l'ennesima collezione di Uncharted, Halo che esce nella raccolta sia per l'Xbox 360 sia per l'Xbox One, e così via. Dal punto di vista dell'esperienza utente, poi, se andiamo a vedere dal punto di vista del retro game, i retro game riescono a colmare uno degli incidenti che rompono più le scatole ai giocatori come noi, che hanno provato anche le cose di vecchia generazione. C'è una vignetta che ho trovato su internet che esprime molto bene questo fastidio che noi abbiamo, e cioè il fatto che il gioco, io arrivavo solitamente, accendevo il computer, il Commodore 64, accendevo, mettevo il mio floppy, avevo pure o lo speed dos o la cartuccia, il fast load di Apix, giocavo, andavo. Adesso io ho una velocità di trasmissione del gioco ed una fruizione anche a livello tecnologico potenzialmente veloce, però ogni volta che vado magari a giocare, se è da un po' di tempo che non gioco, devo pensare che due ore prima devo accendere la console, pensare di aggiornare perché altrimenti se ho solo mezz'ora per cui voglio fruire velocemente del gioco, posso pure diventare lo scheletro. Quindi il fatto che i giochi vengano arricchiti di contenuti da una parte è molto positivo, ma ha portato a questo fenomeno assurdo che poi è un fenomeno che va a coprire anche il fatto, molto spesso, che i giochi in prima uscita sono quasi delle versioni prototipali, con un sacco di caratteristiche che mancano. Vediamo quello che è successo con Mass Effect Andromeda, il cui sistema di animazioni era decisamente ridicolo, che poi ha causato il declino del titolo e adesso Electronic Arts questa settimana purtroppo ha chiuso lo studio. Un'altra cosa interessante è di riprendere queste proprietà intellettuali e qualche volta ha vissuto bene è quello di rappresentare il futuro che al tempo dell'uscita del gioco non c'era. Questo gioco, qualcuno sa come si chiama? Questo gioco? Vai! Battleson! Da specialisti come voi! Allora, Battleson, oltre ad essere stato il primo gioco a diventare poi un simulatore militare con il nome di Bradley Trainer richiesto dal Dipartimento di Difesa americano alla Atari è diventato anche Battleson VR cioè sfruttando la tecnologia del PlayStation VR quindi del caschetto si è riuscito a rideclinare lo stesso gioco ma con un coinvolgimento impensabile nel 1980 quando venne rilasciato Battleson che già allora però era molto coinvolgente ma non era pensabile un coinvolgimento a 360 gradi come quello dell'esperienza di realtà virtuale offerto da Battleson adesso. E' stato annunciato addirittura questo gioco finalmente su Steam quindi per Oculus e Vive con addirittura del contenuto aggiuntivo quindi prepariamoci a vedere a fruire questo contenuto. Quindi vedete che ci sono tanti ingredienti positivi e negativi nel fatto di riciclare per quanto riguarda il remastered o invece riprendere e far tornare a nuova vita per quanto riguarda il ripensare dei concetti di retro gaming che abbiamo sul tavolo e su cui possiamo pensare in questo tempo in cui passiamo insieme. Quindi il discorso del se io penso al discorso di voler fare un gioco o a tutto quello che può essere successo di bello o di brutto nella mia storia di videogiochi il falimento per i gamer è qualcosa che riesce molto spesso perché è certificato che chi gioca l'80% delle volte più o meno muore ma quando si pensa di fare un prodotto commerciale di provare a investire dei soldi il problema non è tanto fallire una volta il problema è continuare a ripetere gli stessi errori cosa che in verità come adesso vedremo succede soprattutto e anche nel mondo della game industry ed è per questo che appunto per certi versi quando si comincia a parlare di tanti soldi il periodo che c'è adesso dal punto di vista dell'uscita dei titoli da chi fa il grande attore dei giochi si dirige sempre su delle soluzioni a diciamo su un usato sicuro quello che quello che che capita solitamente è che quando questo è una è una cosa un po' che mi capita quando qualcuno viene magari ci sono o dei ragazzi che incontrano appunto a varie conferenze oppure qualcuno che viene a parlare nella nostra azienda e e dice che ha l'idea del secolo no? o l'idea della vita un'idea che sicuramente mi cambierà il 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 mio futuro economico è un gioco bellissimo nessuno ha mai fatto una cosa del genere una volta mi è capitato che una persona mi abbia mi abbia detto questo naturalmente poi mi ha insistito un sacco di volte a incontrarmi perché aveva un'idea che avrebbe cambiato totalmente il futuro del mondo dei videogiochi vabbè senti incontriamoci a pranzo te la spiego cioè così me la spieghi questo famoso ingradiente che c'è infatti tu sai che a pranzo mi porta papiri non papiri e mi spiega questo un clone di Flappy Bird ok Flappy Bird era già uscito due o tre anni prima ok allora il fatto di non avere da una parte quello era un caso plateale perché si era pensato non c'era stato un vero e proprio processo creativo sul discorso di pensare a qualcosa di nuovo eccetera però il problema è che quando le persone in un 75% dei casi molto buono le persone che arrivano a presentarmi dei progetti arrivano con un progetto che non è mai stato verificato non è mai stata fatta un'analisi per capire se quell'idea era già stata rappresentata nel passato e quindi magari si prende e poi si cambia si aggiungono delle cose invece quell'idea viene sviluppata pensato che sia un'idea nuova e quindi tutto viene pensato in funzione di non aver messo nessun elemento di novità e allora cosa capita nello sviluppatore che si chiama indipendente cioè quello che pensa queste idee e fa e prova a costruire un progetto di vita che gli durerà due o tre anni in cui magari non è neanche prevista lui neanche pensa di avere di prevedere una retribuzione cosa capita questo è quello che succede un mese dopo la prima uscita dei giochi che vengono fatti da degli sviluppatori indipendenti un po' incoscienti per cui quando gli si chiede come è andata la vendita e poverino si mette a piangere perché perché naturalmente il gioco è andato male non è andato male perché magari il gioco non era di qualità ma semplicemente doveva essere ripensato e in funzione di quelle cose che erano già uscite e quindi semplicemente inserito in un contesto veramente moderno è ovvio che il come dire sono tutte cose che si imparano però quando comincia a diventare come dire seriale questo tipo di errore perché tante persone diverse si presentano anche con tantissimo entusiasmo nei confronti della loro idea perché pensare di investire due o tre anni della propria vita non percependo retribuzione per il proprio progetto è un'idea decisamente coraggiosa ma se non è pensata e studiata bene diventa un suicidio quindi fallire ma non morire cioè a dire che nella storia dei videogiochi questo discorso del fallimento non è la prima volta che si sente ed è stato soprattutto interpretato da grandi aziende come Atari Atari ha nel 1982 firma la propria temporanea condanna a morte con questi due giochi era un'azienda che andava molto bene ma grazie a queste due proprietà intellettuali chiede cerca di ottenere ancora più successo allora naturalmente decide di convertire il fenomeno del 1980 che è Pacman e poi compra la licenza del film etile extraterrestre allora abbiamo due due punti di partenza estremamente forti in ognuno dei due punti di partenza ci sono stati due tipologie di fallimento una tecnologica e l'altra in termini di tempo che andiamo a vedere questo è il risultato di Pacman per l'Atari VCS estremamente diverso da quello che vedete qua perché si è arrivati a questo punto perché Todd Fry che è il programmatore una persona nata nel 1955 programmatore di Pacman per questa della versione Atari va dalla direzione di Atari e dice guarda io non riesco a fare non mi basta una cartuccia da 4k per inserire per fare per stampare per convertire Pacman io ne ho ho bisogno di almeno il doppio della memoria disponibile 8k ok 8k e anche qui parliamo di dimensioni ridicole ma al tempo erano una spesa risultato la direzione di Atari dice no guarda io ne voglio stampare un numero spropositato forse hanno stampato 12 milioni di cartucce vediamo Retrobit ne hanno vendute 7 va bene ok questo è il risultato di aver scelto una dimensione di memoria minore da una dimensione non era onesta però meno il doppio cioè non c'era neanche un'animazione dall'alto verso il basso vi rendete conto c'era questo effetto flickering dei fantasmi che era una cosa fastidiosissima i colori erano stati come dire l'imprinting del colore era stato cambiato insomma una cosa terribile il la persona di insomma c'erano state delle analisi avevano il personale interno di Atari aveva detto no questa cosa di cambiare i colori a noi fa schifo non dovete vendere eccetera invece l'hanno voluto stampare lo stesso ed è stata la loro rovina dall'altra parte invece quindi da una parte la parte tecnologica dall'altra c'è una questione di tempo perché questo Howard Scott World Show ok che adesso fa una specie di è passato da da fare il programmatore di videogiochi poi dopo videogiochi anche molto belli perché Yars Revenge e i predatori dell'arca perduta sono due giochi molto molto interessanti soprattutto questo questo perché un bel gioco di per sé questo perché usava i comandi del i joystick di Atari e i vari switch di Atari per fare tante funzioni questo per per il totale insuccesso che ha avuto ma non perché questo programmatore fosse scarso ma perché a questo programmatore sono state date sei settimane per per fare il gioco lui ha accettato la sfida aveva anche discusso con Steve Spielberg perché Steve Spielberg voleva fare una specie di clone di Pac-Man dice ma se cosa me ne frega tanto un videogioco è il videogioco di E.T ma facciamo che finta che sia una roba di Pac-Man almeno divertente e ci mettiamo solo E.T come personaggio invece lui ha voluto fare un gioco un pochettino più complesso che però con il tempo limitato di sei settimane non c'erano tutti gli strumenti di sviluppo che ci sono adesso cioè c'era ci si programmava bit per bit con un processo molto molto più complicato e quindi è già stato un miracolo aver completato il gioco però con la conseguente insomma con la conseguenza che sto gioco non ha venduto nulla ok e quindi è diventato l'icona del fallimento di Atari poi questo signore subito dopo naturalmente super iper mega stressato è passato da cure psicologiche insomma gli hanno fatto sta cosa di E.T l'ha veramente mandato in tilt adesso fa se è laureato in psicologia fa lo psicologo il personal trainer o non lo so come attività di vita quindi c'è stata una pianificazione completamente sbagliata perché si poteva forse rinunciare all'aip alla come dire la grossa voglia di soldi desiderata da Atari poi è stata decisamente la rovina qualche volta però si sbaglia completamente anche a pensare il come dire ci sono dei giochi che sono stati pensati male fin dall'inizio questo gioco è venerdì 13 questa edizione di venerdì 13 è pensata per il Nintendo la prima console della Nintendo che si chiamava il NES Nintendo Entertainment System peccato che per il NES la Nintendo avesse pensato una console che curasse estremamente bene i contenuti rivolti ai bambini e quindi un gioco che si basa su un film dell'orrore che è tutto sangue accette eccetera declinato su una console come il Nintendo è stato uno dei peggiori titoli proprio ingiocabile cioè se io penso che questo titolo è stato testato forse chi ha fatto il test ha subito una tortura molto più che le vittime di Jason nel film non contenti lo stesso errore fatto da una casa diversa è stato generato sul Commodore 64 dove Domark che è la casa di pubblicazione del gioco di venerdì 13 per il Commodore 64 che comunque è molto meglio di questa versione ha deciso di affidare il gioco a un team di super esperti e cioè un gruppo di programmatori che faceva giochi educativi ok allora i giochi educativi erano delle cose un po' terribili perché tendenzialmente si faceva si prendeva il problema da risolvere non so imparare la matematica e metterci su uno strato di gioco molto semplice molto elementare invece e quindi non era proprio il massimo quegli studi non erano il massimo in verità insomma alla fine decidono lo stesso di fare il gioco decidono per caricare il gioco di di un elemento che potesse coprire il fatto che non fosse eccelso il fatto di metterci due capsule di sangue finto nella scatola originale e quindi tu potevi metterti del sangue finto nel insomma usare il sangue finto da qualche parte e fatto sta che la frittata era fatta un altro gioco un'altra proprietà intellettuale che poteva essere carina e simpatica però naturalmente è destinata a un popolo adulto un po' sprecata con queste cose diciamo che tutto verrà coperto poi da Splatterhouse di Namco che in verità farà un bel gioco arcade che insomma che funzionerà bene adesso fra qualche settimana esce il gioco vero di Friday di venerdì 13 che è un gioco horror asimmetrico quindi dove uno interpreterà Jason e poi ci sarà il gruppo di 4-5 giocatori che cercheranno di fermare Jason da qualche parte un po' come Dead by Daylight però purtroppo se prima avessero fatto un attimo i conti a capire da dove si partiva e dove si voleva arrivare forse avrebbero rinunciato a fare una roba del genere perché il fatto che non si come dire il team è importante l'esperienza del team è importante conoscete questo gioco il fatto di questo è il team che si chiama Hello Games ha fatto un gioco molto che ha creato molto scandalo l'anno scorso che si chiama No Man's Sky un gioco che prometteva per la Playstation 4 e per il PC che prometteva di essere il simulatore definitivo di esplorazione spaziale perché c'erano milioni di miliardi di pianeti generati e tutto quanto con un sacco di trailer pubblicati mesi prima dell'uscita del gioco che andavano a identificare delle cose insomma una struttura di gioco nuova eccetera qual è stata la proprietà comprata da Sony quindi Sony vede in questa cosa una bella idea il team è piccolo però cosa succede Sony pompa tantissimo quello che si chiama appunto l'attesa di questo gioco il gioco esce e risulta essere graficamente un gioco molto meno bello di tutti i filmati che sono usciti prima un gioco molto più povero di tutto quello che era uscito prima rispetto alle caratteristiche elencate che erano nei comunicati stampa un gioco tra virgolette completamente modificato perché Sony per fare in modo che avesse un pochettino più successo decide di far raggiungere dei combattimenti spaziali degli famosi sparini eccetera che comunque cambiano la natura del gioco risultato il gioco all'inizio vende molto ma poi viene completamente eclissato e diciamo invaso da critiche ok quindi non che il team non fosse bravo perché il team è il team degli Hello Games che hanno fatto dei giochi bellissimi come tutta la serie di Joe Danger cioè loro erano bravi però nelle loro mani è arrivato un progetto sono arrivati a gestire un progetto un po' come Warshow che era decisamente più grande di quello che potevano gestire o comunque andava comunicato in modo diverso quindi bisogna come dire se avessero pensato alla fine che aveva fatto Warshow forse ci avrebbero pensato due volte è vero che i soldi fanno gola però poi il team ha ricevuto minacce di morte durante durante l'uscita del gioco ci avete ingannato Sean Murray questo qua ci hai raccontato un sacco di bugie ancora peggio di come era andata con ET di Atari quindi appunto ripetiamo gli errori le cose completamente sbagliate sono state fatte di pensare a dei destinatari completamente sbagliati quindi una console di famiglia non può ospitare comunque dei giochi con delle proprietà intellettuali molto rischiose come quello che c'era su venerdì 13 e dall'altra parte capire che il team deve essere dimensionato per la potenza che si vuole dare la potenza economica che vuole esprimere il progetto ma nel passato non ci sono state solo delle gemme degli errori delle gemme nate male degli errori così grossolani il passato ci aiuta anche a capire mediante questi esempi che appartengono al periodo d'oro di una casa che nonostante uno abbia risorse estremamente limitate ci può essere nella limitatezza della risorsa un vero e proprio capolavoro e qui parliamo di un gioco qualcuno conosce questo gioco Summer Games 2 anzi Summer Games in generale per chi analizza adesso Summer Games il miracolo di Summer Games che è un gioco nato per le olimpiadi di Los Angeles per celebrare le olimpiadi di Los Angeles del 1984 Summer Games 2 arriva un anno dopo Summer Games è uno dei primi giochi fatti da un team vero di persone di circa una decina di persone che si mettono lì ognuno fa la sua praticamente si faceva questa competizione si poteva giocare fino a 8 giocatori contemporaneamente cioè in serie che si dovevano contendere il medagliere su 8 specialità questo è nel primo Summer Games l'anno dopo esce Summer Games 2 la cosa pazzesca che come dire si si può notare dal punto di vista del game design è che tutte le tutte le azioni tutta una serie di particolari permettono di contribuire a una sfida costante cioè partendo da un aspetto banale che è quello di ogni volta che comincia una specialità a sorteggiare sempre un ordine diverso dei giocatori questo crea un certo tipo di attesa nel giocatore come se veramente si partecipasse a una competizione e questo l'ho notato quando circa due anni fa ho fatto giocare questo gioco a un gruppo di bambini di 9-10 anni ok che quindi sono nati secoli dopo il appunto questo gioco e il primo contributo che mi disse una bambina era ma guarda Marco ero quando ho preso Joypad in mano si stava facendo la spicciata dei tuffi mi sembrava di essere lì sulla piattaforma in attesa ero emozionata perché prima o poi sarebbe stato il mio turno però non sapevo quando potesse essere veramente il mio turno quindi con una cosa banale semplicemente una randomizzazione dell'elenco dei giocatori questa cosa creava aumentava lo spirito di competizione nell'esperienza di gioco così come tutto l'insieme di elementi che non erano solo basati sulla forza fisica sul fatto di smanettare per muovere velocemente destra e sinistra per avere la velocità ma ognuna di queste prove riusciva a insomma conseguenze diverse riusciva reinterpretare l'evento che si voleva rappresentare ma poi con l'uscita di Summer Games 2 capitò una cosa molto interessante e cioè che l'esperienza poteva essere raddoppiata cioè se se io avevo comprato io avevo comprato Summer Games l'anno prima comprando Summer Games 2 potevo abilitare un'opzione per far arrivare non solo la competizione quindi giocare solo gli 8 eventi aggiuntivi di Summer Games 2 ma fare una una competizione da 16 eventi quindi fare una vera e propria olimpiada raddoppiata un po' questo una mossa di mercato che invogliava a comprare il gioco precedente ma una mossa del genere non era mai stata fatta nel nella storia dei videogiochi l'unica cosa che c'era come traccia era il fatto ad esempio nei giochi di ruolo come la serie ultima era quella di poter riciclare i salvataggi del vecchio personaggio nel nuovo episodio un altro gioco interessante è questo che si chiama Impossible Mission qualcuno l'ha mai giocato? eh sì ok perfetto questo gioco gli elementi di questo gioco sono sono stati usati in altri giochi che sono però giochi completamente diversi ma vedremo vedremo allora ho bisogno di un giocatore uno di voi che venga perché lo giocheremo con l'imulatore del Commodore 64 quindi se qualcuno vuole venire mentre preparo l'imulatore ok vediamo un po' se l'imulatore mi fa le cose bene vieni vieni venga qualcuno ok perfetto siamo sul Commodore 64 39k di memoria libera di default poi deallocando togliendo il basic arriviamo quasi 64k il nostro amico che si chiama io lo conosco Francesco Francesco prima volta che ci conosciamo Francesco farà interpreterà l'agente 4025 se mi ricordo bene no no col joypad della 360 contro il professor Elvin Atombender quindi lui entrerà nella casa di questo professore che è pronto a schiacciare il bottone della bomba atomica ed l'agente super segreto dovrà cercare di risolvere la cosa allora è solo naturalmente come qualsiasi gioco come lo 64 hai solo la direzione e il tasto per saltare ok e fai tutto con quello ma adesso vedrai insomma vedrai cosa succede vediamo un po' se si sente sente pochissimo ok questa era una sintesi vocale impensabile per gli anni prova a muoverti vedere se funziona no no ok non funziona prova a muoverti adesso bene mettiamo solo il joystick che magari autodetect ok che è successo è esploso è esploso lo facciamo ripartire gli mettiamo il joystick perché non l'ha preso subito questo simpatica persona ok l'ha preso ma non si sa come mai ha deciso di ok allora così magari sentiamo anche l'effetto sonoro provo a muovere niente allora va bene pigliamo possibile un k-set che faccia così riprova niente non ma è mica spento no è acceso ma che strano va bene allora abbiamo questi problemi tecnici che la porta si no la scambio però è già in porta 2 ah no aspetta aspetta questo l'ha rimesso sul provo un attimo vabbè dai che ce la facciamo beh guarda ti metto la tastiera ti metterò il keypad keypad key set A e vediamo un po' se col key set A almeno mi fa qualcosa ce la facciamo forza ma neanche va bene vediamo un po' chi set A niente va bene sappiate che ok questo ve lo spieghiamo ve lo spiego in non si sa perché non vuole va bene allora riassumiamo un'altra esperienza di personaggio riciclato dalle animazioni di summer games ok nel senso che è molto simile deve andare in giro a per lustrare a controllare tutti questi pezzi di mobilio o i computer per trovare dei dei pezzi diciamo di un puzzle che costituerà la parola chiave per fermare entrare nella stanza di Tom Bender e fermarlo qual è la cosa interessante di questo gioco il gioco diciamo si può finire a un'ora praticamente sono sei ore di tempo nel gioco ogni volta che io perdo una vita il gioco il tempo avanza dieci minuti però qual è la cosa interessante che ci sono due elementi procedurali che danno la il come dire l'aspetto di novità e di rigiocabilità al gioco il primo che la mappa non è mai la stessa quindi ci sono certo delle stanze impostate uguali che però vengono rimischiate ogni volta in un ordine diverso ma la cosa più interessante è che in ogni stanza ci sono questi robot a ogni partita il comportamento dei robot ogni volta cambia quindi in una partita diversa se io entro nella stessa stanza posso avere dei robot che si comportano in maniera diversa uno magari che ti segue sta fisso un altro magari in un'altra partita fa giri in questo modo ok e poi decide di spararti una carica elettrica che ti polverizza però la cosa interessante è che in ogni partita io vedo posso vedere le stesse stanze ma avere un modo essere portato ad avere un modo diverso di affrontarle perché questa cosa funziona perché come elemento di gioco che permette se questa cosa procedurale mi fa casino c'è un computer il mio omino può andare su un computer e può bloccare sia il robot sia quello che sono questi che sono gli ascensori il fatto di poter bloccare il robot mi permette ogni volta di poter uscire da delle situazioni che sono che non mi vanno tanto bene e che magari mi mettono in stallo nei confronti della risoluzione della stanza insomma un capolavoro con questi due elementi che si Francesco ci giocheremo quando andiamo in associazione che vuoi chiedere sarà così va bene un comportamento che noi andiamo a ritrovare in un gioco come questo sapete quando è uscito Hotline Miami due anni fa è uscito il due due anni ancora prima è uscito l'uno perché vedete questo è un gioco finto retro perché è uscito quattro anni fa in cui che è molto sanguinolento diciamo che possiamo avvicinare le esperienze di Hotline Miami al film Drive se qualcuno l'ha visto che cosa c'è che ogni volta che io i livelli sono sempre uguali ma ogni volta che faccio un livello il comportamento dei cattivoni che sono questi qua io invece sono questo con la maschera da gallo o differenti animali i cattivoni mi cambiano il comportamento quindi mi obbligano ogni volta ad avere quel senso di incertezza e quel senso quella tensione in più che mi permette di che mi crea l'adrenalina giusta per per andare avanti nel gioco e per fare in modo che questo gioco sia oggettivamente un piccolo capolavoro voi potete criticarlo per tutto il sangue eccetera ma c'è tutto un discorso molto interessante sulla violenza di Hotline Miami molto molto bello invece ci sono dei giochi che appunto sembra che siano stati fatti adesso e poi li abbiano portati indietro perché sono forieri sono portatori di così tanti elementi di novità che è quasi impensabile pensare che di botto ok siano usciti e abbiano come dire abbiano cambiato il genere classico il primo titolo che ti viene da pensare può essere Super Mario Bros ok perché Super Mario Bros per quanto riguarda il game design è del primo livello è come dire è quel modello che viene spiegato in tutte le scuole che sviluppano videogiochi ma non c'è solo diciamo Super Mario Bros per quanto riguarda il platform per quanto riguarda i giochi sportivi c'è questo basta se facciamo così c'è NBA Live 95 adesso la serie NBA Live purtroppo non va tanto bene nel senso che ogni volta che Electronic Arts prova a fare qualche nuovo NBA Live o non riesce a farlo uscire o fa un disastro totale e prende 40 di Metacritic in verità il primo NBA Live uscito per PC quindi con la tecnologia del Compat Disc quindi passare da delle dischetti da 1,44 oppure da cartucce da 8,4 16 mega come c'erano nel Mega Drive a 650 mega quindi centinaia di volte di spazio in più in questo caso fa in modo che si crei un titolo incredibile un titolo incredibile che già dalla presentazione mostra il come dire questo questa cosa pazzesca quindi era un ancora più più intorno ai primiti sono spazi uno di g no ho Google ma ok questa era l'intro abbiamo il menu poi naturalmente c'era la possibilità di fare modificare tutte le opzioni avrei la possibilità di cominciare una stagione intera e poi si è una stagione intera e poi si è una stagione intera e poi si è una stagione intera e poi the Phoenix Sun. Here's the line-up for the Golden State Warriors and now here's the starting line-up for the Phoenix Sun. Here's the line-up for the Phoenix Sun. Here's the line-up for the Phoenix Sun. Tenete conto che un approccio televisivo era già cominciato con tutti i prodotti della CinemaWare, TV Sports Football, TV Sports Basketball eccetera, però non erano mai stati così dirompenti, erano bellissimi, con le pubblicità finte, la comunicazione dei risultati delle altre squadre mentre la partita veniva giocata, cioè elementi impensabili. Ma mai una cosa del genere concentrata in un solo titolo, cioè finalmente i filmati venivano usati solo per introduzione e non all'interno del gioco, magari con recitazioni di serie B come succedeva in tutti i giochi per il Siga CD o tutte quelle cose terribili che adesso possiamo rigustare nell'edizione per PlayStation 4 di Nightwrap. Con la mitica Dana Plato, insomma, che fa l'attrice principale. Quindi per la prima volta la potenza del Compat Disc era usata al 1000%, per fare poi un gioco giocabilissimo, con un sacco di possibilità di gioco, non solo la stagione, statistiche eccetera, di tutto. E' per questo che un gioco come NBA Live è un gioco nato, che è arrivato dal futuro. Incredibile pensare che questo ha dettato tutto quello, tutto lo schema di presentazione delle partite, di tutto quello che è FIFA, Madden, NHL, tutto quanto. E' tutto funzionabile adesso con Dos Box, che insomma è una cosa che funziona. Quindi imparare dagli errori, e questo è una cosa che bisognerebbe fare, e che nel mondo moderno, questo è un bel libro da leggere sui videogiochi, perché insomma fa capire perché nei videogiochi è importante fallire, leggendo perché è molto interessante. Allora, a proposito di qualcuno oggi che impara dai propri errori, presentiamo il gioco Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. L'avete giocato, no? Assolutamente. E' un gioco per PlayStation 3, cioè non avete giocato questo capolavoro su PlayStation 3? Sembra Rocket League, adesso vediamo. Vedete, qui al solito ci sono queste macchinine, questa palla, eccetera. Qualcuno dice che sembra Rocket League, perché è la prima versione di Rocket League, cioè Sionic. Lo studio che fa Rocket League lo conoscete? Quel gioco di calcio, macchine 2 contro 2, 3 contro 3, che sta sbancando perché è diventato un e-sports, è bellissimo. La prima edizione fu questo gioco su PlayStation 3, che non vendette nulla, ok? Analizzarono il motivo per cui c'è un motivo, il primo motivo è che non puoi fare un gioco che si... Scusa, giochiamo a Super Acrobatic, Battle Cars, eccetera. Quando ho finito di dirlo mi è passata la voglia di giocare, ok? Però il concetto era bello perché loro hanno preso questa situazione terribile, cioè il fatto che il loro gioco abbia venduto poco, con questo discorso, ok, raccogliamo tutti i feedback negativi degli utenti e vediamo di farci qualcosa. Li hanno raccolti tutti, hanno analizzato e cosa è successo? È venuto fuori Rocket League, che è il gioco che adesso giochiamo sui nostri PC, Xbox, PS4, eccetera. E soprattutto hanno rischiato per Rocket League perché, se voi vi ricordate, Rocket League è appena uscito, è andato gratuito sul PlayStation Plus. Io l'ho comprato gratis sul PlayStation Plus. Perché doveva essere gratuito? Essendo un gioco fortemente basato sul multiplayer, bisognava creare subito una comunità ampia di utenti. Allora è per questo che il gioco va gratis. Quando fai l'accordo con Sony sul PlayStation Plus, per mandare il tuo gioco così, ricevi un tot di denaro. Ok, certo, non è che uno dice, te lo do gratis e poi non mi dai niente. Però è una quantità di denaro che magari poteva essere molto di più se il titolo fosse stato venduto. Perché non sai a priori quanto vende. Però essendo andato male il primo gioco, il fatto di metterlo sul Plus per un mese ha fatto in modo che intorno al gioco si creasse una community massiccia di utenti. E che quindi hanno cominciato a creare partite su partite, video su YouTube, clan di persone che giocavano insieme. Creare quella fanbase che ha permesso poi di far uscire il titolo sulle altre piattaforme, farlo giocare e soprattutto facendo una cosa un po' strana, che è anche un po' difficile da fare in modo pratico. Cioè fare un crossplay tra le piattaforme, cioè far giocare il PC con gli utenti della PS4, gli Xbox One con gli utenti di PC, eccetera. Ha permesso di fare in modo che Rocket League diventasse, yeah, ciao Francesco, diventasse il titolo, il multiplayer per eccellenza di Psionic. e quindi poi loro non guadagnano sulle espansioni con le nuove modalità di gioco, guadagnano sul fatto di creare i modellini delle macchine che uno si può comprare e usare in gioco. Che sembra una cosa stupida, ma la personalizzazione nel mondo dei videogiochi è quella che alla fine ti fa guadagnare tantissimo. Pensiamo ad esempi come Dota 2 oppure League of Legends, che sono tutti titoli gratuiti che basano il loro guadagno esclusivamente sulla personalizzazione. Anche perché se io vendo un oggetto a 1,59€, quell'oggetto è il risultato di tre giorni di lavoro del mio artista, e questo oggetto mi vende 100.000 pezzi, perché ho una base utente da 10 milioni, è ovvio, fate 1,59 per 100.000 e per tre giorni di lavoro chi non vorrebbe avere dei numeri di questo genere? Quindi, suggerimenti per provare tutte queste cose, giocare con gli emulatori, quindi provare, scaricare gli emulatori dei vecchi computer e provare i vecchi titoli, sapendo che potete anche capitare in questi casini in cui qualche volta il vice decide di non mappare bene i controller, però appunto questo mi permette di riuscire a rivisitare, rivedere tutta la libreria, tutti i titoli vecchi, e non solo vederli su delle fotografie, ma provarli, vedere che cosa funziona e cosa non funziona di queste cose. Quindi appunto il file che io ho caricato rappresentava questo disco, il disco originale di Summer Games 2 che va a finire nel mio emulatore. Altre cose, allora, oltre alla ricerca storica accurata che si può prendere tramite il giocare, per fare in modo che si guidi questo giocare è necessario provare anche a leggere dei libri che implementano la storia. Adesso ne vedremo un po', anzi, ne passiamo subito al vederli, così almeno, ok, libri come questi, come replay, che raccontano la storia dei videogiochi nel loro appunto, partendo dal 1958, il primo esempio di Pong, a quello che può essere appunto fino a, mi sembra, metà degli anni 2000. E poi, se per caso mi viene in mente di fare un videogioco, non solo fare questo processo di analisi storica della mia idea per vedere se qualcuno l'ha già fatta, ma provare a fare un esercizio che è molto interessante, che si chiama così, dicevamo elevator pitch, quindi provare a riassumere in tre frasi o in tre righe l'idea che permette di comunicare il mio gioco al massimo del mio potenziale. Questo che cosa, perché devo fare questo esercizio che è molto difficile? Questo esercizio mi permette di far capire anche a me stesso se l'idea che ho del gioco è un'idea che funziona, se un'idea che è spiegata a qualcun altro o l'altro almeno mi sorride per darmi una pacca sulla spalla o diventa entusiasta, eccetera. E parte da questo discorso. Conoscete questo personaggio Gabe Newell, no? Questo è il proprietario di Valve che è quella che ha fatto Half-Life, Half-Life 2 e adesso praticamente è l'owner della piattaforma Steam. Quindi fa soldi a palate. Fate finta di incontrare Gabe nell'ascensore e provare a spiegare il tempo di un viaggio in ascensore a Gabe la vostra idea. Per fare questo c'è un processo che viene fatto, no? Che ha delle regole e che ognuno di noi ogni volta che fa un pitch lo segue. Quindi appunto quello che capita è che io quando devo spiegare un videogioco racconto la storia. È una cavolata perché il videogioco si basa su delle meccaniche e magari anche su una storia. Ma se io non racconto come interagisco cioè la meccanica di un gioco è come la parola in un libro. Cioè è una delle parti principali. Quindi mi concentro sulla meccanica ok e allora cosa succede? Succede che per fare questa cosa bisogna fare quello che si chiama un esercizio di sintesi estrema. Come esempio ho preso una vignetta un po' particolare di qualche anno fa c'erano dei fumettisti di satira che si chiamano Degnè Caviglia che avevano deciso di fare un super mega bignami in cui diciamo riassumevano non so Omero l'Iliade i greci conquistano una città su un cavallo di legno. Questa è l'idea chiave dell'Iliade Dio la Bibbia autobiografia e gli crea il mondo poi dice a un tizio quello che si può fare o non si deve fare e così via. L'elevator pitch è proprio questo è un esercizio di sintesi quindi riassumere in una frase il motivo per cui valrebbe la pena sviluppare un progetto cinque serie di testo bisogna riuscire a comunicare tutto l'idea la piattaforma e le motivazioni questo è un elevator pitch di un gioco famosissimo uscito a metà anzi agli inizi degli anni 2000 quindi qui pensiamo è proprio quello che hanno usato per far convincere il finanziatore a dare 10 milioni di euro di dollari non 10 mila lire o 10 euro 10 milioni di dollari quindi pensiamo che il mondo abbia bisogno di una vera esperienza di sperimentare veramente gli eroi della seconda guerra mondiale in modo tale che la storia non si ripeta vogliamo avere fantastica grafica incredibile campagna narrativa e velocità e come GoldenEye nella seconda guerra GoldenEye era un gioco per il Nintendo 64 per la Playstation 2 e poi c'è il claim la tagline prepare for your finest hour quindi quella frase che deve far esaltare il giocatore prima di comprare il gioco il gioco era Medal of Honor quindi non si racconta la storia di Medal of Honor si raccontano tutti gli elementi che riconoscono Medal of Honor in quanto tale ok quindi quello che bisogna fare il trucco che bisogna fare ogni volta per cercare di capire quando io provo a riassumere il mio gioco per capire se è efficace il mio riassumere il mio gioco in tot frasi e non chiedersi 13 volte perché ma provarne a chiedere solo 5 cioè reiterare allora perché questo gioco deve essere divertente ok divertente perché c'è una dinamica in cui un tizio salta per prendere dei funghi perché dovrebbe essere divertente prendere dei funghi perché la modalità di salto è fatta in un certo modo e così via è un esercizio difficilissimo molto spesso ci si piega una settimana a fare un elevator pitch perché tu quelle frasi che devi dire alla persona o che devi comunicare agli altri devono essere frasi pesate ho finito compiti a casa documenti se volete appunto per la storia dei videogiochi libri come abbiamo già visto prima un po' di siti se uno vuole andare a vedere e basta questa è la mia se volete chiedermi la presentazione mandate un messaggio a questa posta elettronica buon appetito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti